ecco il divano modello ieres ieres è un divano con forme contemporanee che abbiamo rivisto recentemente in collezione andando ad aggiornare alcuni dettagli costruttivi parlo di forme contemporanee non design non classiche perché vediamo delle forme relativamente squadrate tipiche del prodotto moderno e al tempo stesso in un particolare che vi farò vedere degli schienali c'è comunque un dettaglio di memoria che va indietro qualche decennio ma che è sempre efficace sia in termini stilistici che per tener fermo il cuscino prima di vedere questi dettagli vi parlo un pochino delle composizioni che possiamo realizzare ovviamente abbiamo i divani lineari la possibilità di creare composizioni con cheslong accostando un terminale questo per esempio che parte da qui fino al bracciolo è un terminale a cui andiamo a costare l'elemento cheslong open isola ok possiamo poi creare composizioni angolari con doppio bracciolo in particolare poi ci sono due angoli quello da 100 per 100 100 la profondità del divano e questo in particolare che quello da 100 per 125 ok qui vi tolgo qualche cuscino così lo potete vedere meglio e utilizzando l'angolare posso appunto andare a creare una composizione con doppio bracciolo andando ad apporre lì un secondo terminale con bracciolo oppure come in questo caso posso utilizzare un centrale e il puff per andare a creare una composizione che in termini di disposizione è equivalente a un angolare meridian quando si va a creare una composizione con angolare meridian tipicamente è creata da un terminale con bracciolo e dall'angolare meridian in questo caso la l'area angolare meridian è stata creata con l'angolare il centrale ed il puff su alcuni modelli diciamo con sedute abbastanza piccole questa cosa viene meno bene che a fare un angolare meridiene intero perché facendo così vuol dire che ho tre distinti elementi con i propri cuscini di seduta e anche le proprie strutture su divani dalle forme generose come per esempio questa composizione questo è un approccio assolutamente efficace che ha da in più anche la flessibilità di poter spostare il puff all'occorrenza quindi è una meridiene con un tocco in più di flessibilità nella possibilità di spostare il puff a seconda delle circostanze allora prima di provarlo a livello di ergonomia vediamo un paio di dettagli sempre dal punto di vista stilistico il vediamo qui il piedino a scomparsa è un piedino in abs nero che viene tenuto in dentro di qualche centimetro e visto che il divano è poco sollevato da terra sostanzialmente il piedino non si vede c'è anche la versione con una zeppa non super pronunciata non molto pronunciata ma si vede nella gallery una zeppa cromo che viene posta diciamo all'estremità e comunque mantiene la stessa altezza vediamo un altro aspetto un dettaglio questo diciamo non è un profilo e non è una cucitura semplice quindi è un non so come definirlo dovrei parlare col tappeziere comunque è una sorta di profilo che non può essere fatto in contrasto rimane solo in tinta ma che viene tenuto particolarmente aderente e crea comunque una lieve evidenziatura della forma in questo caso del bracciolo lo vediamo allo stesso modo sulla seduta ok ci spostiamo dietro e vediamo come lo Ieres è un modello particolarmente interessante anche visto da dietro e vediamo quel particolare di memoria di cui vi parlavo che è questo salsicciotto guarda solleviamo questo cuscino ok dove sostanzialmente questo questa costruzione per la quale attacchiamo al cuscino questo salsicciotto imbottito in espanso il cuscino è una piuma poi ve lo mostro aperto questo è un salsicciotto in espanso poi c'è questa patella che lo tiene che lo tiene fermo è anch'esso sfoderabile con la sua cerniera ha una funzione innegabilmente decorativa per ingentilire la parte posteriore e poi ha la funzione tecnica ergonomica diciamo di tener fermo il cuscino perché per tener fermo adeguatamente immaginiamo che non ci sia questo salsicciotto io cosa dovrei fare dovrei fare come su altri modelli che abbiamo visto sull'incavo sulla seduta scusate un bel incavo cioè schiacciarlo un po in basso in modo che rimanga fermo e tendenzialmente oppure potrei anche alzare un pochino lo schienale in questo caso il cuscino di schiena rimarrebbe adeguatamente fermo qui per ragioni stilistiche visto che il divano ha il bracciolo alto come la parte strutturale dello schienale non si poteva alzare lo schienale se l'avessimo tenuto basso ecco che poi in termini ergonomici il cuscino oltre a non stare fermo si piegherebbe troppo all'indietro quindi un salsicciotto di questo tipo oramai da decenni si usa in quest'ottica e appunto è un dettaglio di memoria non è recente in termini stilistici ma anche personalmente come arredatore lo trovo intramontabile e sempre efficace volendo poi questo è un dettaglio non è disponibile direttamente sul portale questa possibilità ma è un dettaglio che volendo si può fare anche in un colore alternativo e può venire bene perché io potrei avere il colore principale qui sulla struttura e magari anche sullo schienale su questa parte lo schienale e fare il salsicciotto di un altro colore come anche il colore principale per la struttura e le sedute e andare a fare tutto il cuscino di schienale sia quello su cui mi appoggio che il salsicciotto in un colore alternativo nel divano ieres ci sono due modi per gestire lo schienale faccio un esempio su una seduta come questa che è una seduta di larghezza 100 centimetri ecco che io posso avere la seduta da 100 e lo schienale da 100 ok e se ho tutte le sedute gestite in questo modo vuol dire che non ho questo spazio centrale che vedo qui lo vedrei frontalmente lo vedrei in questo modo questo gli dà un look più contemporaneo più contemporaneo più classico nel senso buono del termine oppure posso modernizzarlo come abbiamo scelto di fare noi in showroom recentemente appunto andando avere uno schienale di 80 centimetri posto su una seduta da 100 si crea questo spazio centrale che lo modernizza decisamente sia per la vista frontale che per la vista posteriore poi giustamente un cliente può dire sì però quando mi siedo esattamente in questo punto e mi butto indietro in questo punto non ho supporto dello schienale è un'obiezione legittima e giustamente si può fare entrambi i modi non ci sono differenze economiche e si tratta di valutare oggettivamente il proprio gusto il proprio stile di seduta e quindi è totalmente personale vediamo un pochino lo stile di comfort sposto questi cuscini così provo la seduta con bracciolo ecco qua allora la prima cosa che si percepisce allora complessivamente divano comodo accogliente nel senso che è piuttosto morbido senza sprofondare questo perché diciamo a parte la struttura in legno poi c'è una è una imbottitura in piuma ma è tutta piuma con per quanto riguarda la seduta l'interposto in espanso e comunque tutta divisa in micro camere così che non si sprofondi una cosa che io percepisco è che una seduta poco profonda rispetto ad altri modelli che abbiamo in gamma la seduta non è particolarmente profonda e questo diciamo deriva da un ragionamento esplicito di collegamento tra la profondità del divano che è 100 cioè si è scelto di non portarlo a 105 110 e quindi ingombri che in alcune abitazioni possono essere impegnativi quindi una profondità relativamente contenuta unitamente però alla presenza di una parte rigida dello schienale che è concretamente profonda perché sono 20 centimetri questo fa sì che la seduta netta considerando poi lo spazio dello schienale imbottito sia contenuta poi questo viene compensato da uno schienale estremamente accogliente cedevole nel senso buono del termine perché essendo poi misto piuma più morbido della seduta posso buttarmi indietro sostiene bene le spalle rimane questa questa percezione di seduta non particolarmente profonda che magari è estremamente comodo per persone di media altezza è un filo meno comodo magari per le persone molto molto alte io per dare un'idea sono 1,85 il vi faccio vedere all'interno dello schienale come vi accennavo prima mi sposto di qua allora vabbè qui rivediamo vediamo anche come il modello sia completamente rivestito in ogni parte anzi vediamo se riusciamo anche a sollevare il cuscino di seduta e vediamo come è fatto sotto ok quindi in questo caso c'è il vellutino accoppiato al quale col velcro si attacca tutto il rivestimento questo è molto semplice ecco qua riprendiamo il nostro cuscino di schiena ecco qui e lo apriamo e vediamo quella descrizione prima accennata del cuscino in piuma piuma insacchettata e qua si intravede appena però è un dettaglio perché non è che questa cucitura che fa la differenza però quando con la mano quando io sento queste cuciture sento proprio che ci sono volumi diversi che sono quelle micro camere tra virgolette di cui parlavamo tali per cui la piuma che è qui anche quando la comprimo posso comprimere finché voglio non si sposterà al centro e viceversa e questo fa sì che per quanto appunto sia positivamente cedevole cioè positivamente morbido lo schienale non prende la forma a tal punto da affossarsi che è quello che è il difetto di o del prodotto prettamente economico o del cuscino in piuma quando non viene non viene tenuta questo questo tipo di accortezza vediamo un'ultima menzione sull'angolo magari lo vediamo anche a livello di di ergonomia qui c'è qualche cuscinetto in appoggio dicevamo allora l'angolo può essere questo è il cosiddetto angolo chiuso nel senso che qui crea una l cioè siamo a 90 gradi questa è la posizione tra virgolette meno comoda meno comoda di un divano in questo caso lo è ancor meno perché in un'ottica così decorativa anziché mettere qui un cuscino anch'esso con salsicciotto quindi pieno sono stati mezzi dei cuscinetti decorativi e questo è una scelta di dettaglio se noi immaginiamo per un istante di avere questo è più lungo di quello che dovrebbe però seguitemi un attimo nel ragionamento immaginiamo di qui avere un altro cuscino standard ecco che questo mi darebbe la lo stile di seduta dell'angolare e questo è un concetto affine a altri divani non solo allo ieres diciamo che qui la seduta prima commentavo che la seduta allo ieres è relativamente poco profonda qui è maggiore e infatti vedete in questo caso anche se sto facendo il video mi viene naturale buttarmi all'indietro appoggiare le braccia sugli schienali come se fossero un bracciolone in quest'ottica questa diventa un punto comodo come anche eventualmente tirando sui piedi o in una direzione o nell'altra diciamo che un tipo di comodità diverso perché se lo ieres nelle parti lineari è particolarmente comodo ma per la profondità di seduta compatta è una comodità formale cioè sto seduto relativamente dritto in questo caso l'angolare è particolarmente comodo ed è una comodità diversa perché è una comodità informale diciamolo più più in linea con le esigenze di relax un'ultima menzione sul tessuto in cui stiamo vedendo questa composizione questo è il tessuto mystic è un antimacchia acqua clean in questo caso è un tessuto non un floccato microfibra cito questa cosa perché nella gamma acqua clean ci sono molti molti floccati questo è un tessuto poliestere prodotto da acqua clean con una performance di resistenza alle macchie veramente eccellente vedete lievemente scrivente è proprio un pizzichino ha una gamma cromatica molto ampia sono tutti colori uniti anche se lievemente lievemente screziati ed è molto resistente sia a livello di martindale a livello è lavabile lavatrice facilmente e non è impossibile macchiarlo ma diciamo che bisogna impegnarsi e questo ovviamente aiuta a sfoderare meno o comunque con minore frequenza il prodotto in ogni caso prolunga la vita media dello stesso divano componibile modello ieres